Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina! Oggi vi voglio far vedere un dolce al cioccolato fatto a microonde con la microcook con soli 5 minuti. Andiamo a vedere come si fa! Ecco qua! Allora, la microcook, 60 che metterò qua dentro, 60 grammi di farina. Prendo in aiuto la mia spatola. Due cucchiai di cacao amaro, circa 60 grammi. 60 grammi di zucchero, un uovo, latte e l'olio di semi di girasole. Andiamo a mescolare le farine. Andiamo ad aggiungere lo zucchero. Andiamo ad aggiungere l'uovo. E' una torta, questa è una torta velocissima. Andiamo ad aggiungere l'uovo. Andiamo ad aggiungere 60 ml di latte. E' tutto 60, 60 di farina, 60 di zucchero, 60 ml di latte, 60 ml di olio di semi e un cucchiaino di lievito. Ah, e 60 grammi di cacao amaro. E a frustina, tapo, perché così tolgo tutti i grumi e vi faccio vedere anche il composto, come deve venire. Ecco qua, deve essere una crema. Do un tocco. C'è chi aggiunge il cucchiaino di Nutella, c'è chi invece aggiunge le gocce di cioccolato, c'è chi non aggiunge proprio nulla. Io aggiungo a pioggia delle goccine di cioccolato fondente. E per questo vado a mettere le microonde a 800 watt per esattamente 5 minuti. Ci vediamo tra poco. Vediamo il risultato. Ok, sono passati 5 minuti esatti. 3 minuti l'ho lasciato come tempo di posa all'interno del microonde. E adesso scopriamo. Wow! Ecco qua, l'ho girato, l'ho voltato sul nostro piatto e ho aggiunto qualche goccina di cioccolato a questa torta che è praticamente morbidissima. E che dirvi, buon appetito! Mettete un mi piace! Ciao!